Carissimi amici è cominciata la seconda settimana ed anche la seconda città del mio tour mondiale New York proprio qua dal centro finanziario mondiale che comincia pure la vendita di video dedica personalizzati da New York per continuare ad autofinanziare il mio giro e voi sapete che se si riuniscono due persone che mettono 2,5 euro e arrivano a 5 mi possono comprare un video per dedicarlo a qualcuno e se si riuniscono 4 arrivano a 10 ne comprano due oppure la grande promozione di 12 euro per 3 video per dire un ti amo per salutare una persona per pubblicizzare un commercio come sarebbe dire buon compleanno a un parente da New York dagliel'occhiata carissima Marcella Bianca è con molto piacere che ti mando questo video messaggio privato con dedica da parte di Paolo Rossi tuo nipote che ti vuole dire carissima zia ti voglio dire buon compleanno da New York qua il museo della memoria ma sai che io e le dizia siamo venuti qua abbiamo speso 800 euro ognuno per venire a dirtelo dalla città che tanto ti sarebbe piaciuto la visita eh? ti sei ricordata che non era New York era Hong Kong ossia che noi abbiamo speso 800 euro ognuno per venire fino a qui e poi ti ricordi che noi erano New York era Hong Kong 800 euro mi sento male portatemi all'ospedale eh? acqua non è gratis e si paga non mi sono mai sentito così bene ciao zia grazie a tutti